Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! No, non ho iniziato questo video senza di voi, è che lo stavo girando, però stava venendo uno schifo e quindi ho deciso di ricominciare. Allora, come vi avevo promesso nello scorso Scopriamo, oggi andremo a dipingere la notte stellata su questa tavolozza il cui stampo potete trovare da Gea Creations. Non vi preoccupate perché i peli di ciccio non sono inclusi negli stampi, cioè quelli che vi arriveranno a casa arriveranno senza peli. Vi lascio inoltre il codice sconto che è tesori15, non togna15 come ho detto nello scorso video. Allora, oggi andremo appunto a dipingere con la resina fill crystal UV, che vabbè è la resina UV, io per informazione vi sto dicendo che uso quella della reschimica, ma in realtà è una resina UV qualunque. Mi raccomando a che sia densa, perché ne ho provate altre che sono super liquide e non vanno bene per sta cosa. Allora, come vedete, stavo facendo la luna, però mi stavo un po' incavolando perché è uscito fuori il Sergei, che era in me. A proposito, abbiamo soprannominato con una di voi questo Sergei, Sergei Esposito, perché giustamente è napoletano e quindi è Sergei Esposito. E niente, quindi mi sono innervossita perché, guardate, questo bianco fa schifo. Quindi niente, io non stavo ottenendo i colori che dovevo ottenere, però vabbè, visto che comunque lo spettacolo deve continuare, lo facciamo continuare. Ho messo appunto i primi strati, adesso vado ad intensificare il blu, perché per un effetto carino, con la resina UV, dovete metterci per forza poi un colore trasparente, cioè sì, vabbè, domani. Un colore scuro da portare in giro, così, da fare poi con i tratteggi, vedete, prima di metterli nella lampada. Vabbè, io sto facendo i tratteggi perché lo stile di Van Gogh è così, la pennellata, altrimenti no. Infatti dopo vorrei provare a farne un altro, non tratteggiato. Non è facile, non ho visto altri video di dipinti con la resina UV, quindi noi stiamo andando veramente molto, molto alla cavolo. Perché però è bella e secondo me va approfondita? Perché ci permette di utilizzare pigmenti o anche glitter, cosa che proveremo a fare in questo video, che ovviamente con gli acrilici non potremmo utilizzare. Io il reference lo sto seguendo, non lo sto seguendo, perché comunque qua non siamo Van Gogh, quindi, insomma, questo non è nemmeno colore ad olio, quindi, niente, ce lo teniamo così il tentativo, no? La resina UV, giusto per chi non lo sapesse, catalizza con i raggi UV, quindi vi serve la lampada, quella che si utilizza per fare le unghie. E mentre mia pampina è sotto la lampada, ad abbonzare, si deve, io creo il celeste, perché mi sono ricordata, io volevo farlo col blu e il bianco, ma in realtà mi sono ricordata che qui ho questo fantastico pigmento che potrebbe anche passare per celeste. Questo, anzi, secondo me è anche molto più bello, però è un dipinto super trash. Allora, vediamo un po', vediamo un po' cosa ci serve, vabbè, secondo me abbiamo già tutti i colori, ci servirebbe il nero, perché come ho detto non è che lo voglio fare proprio preciso, preciso, eh, perché, cioè, già non lo so gestire bene questo materiale, Se dovessi mettermi pure a seguire le pennellate di Vincenzo, non ci siamo. Volete cimentarvi anche voi in questa cosa? Fatelo lontano, ovviamente, dai raggi solari, perché altrimenti quello, i colori che realizzate sulla tavolozza, indovinate un po', catalizzeranno. E noi non vogliamo che catalizzino. Allora, poi, per questa prova sto utilizzando solo coloranti in polvere, perché non voglio brutte sorprese. Ok, 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 ci siamo, lo so, la luna non vi piace, ma non vi preoccupate, ma sistemiamo tutto, non abbiate fretta, per favore, non mettete fretta all'arte. Allora, qua ci vuoi andare con un po' di nero. La luna ce l'aggiustiamo dopo, ma non ci soffermiamo sulla luna, gentilmente. Ah, ecco, ecco, che in realtà, perché al centro della luna non c'è scuro. Allora, passiamo alla stella. Il blu, giallo, quell'è, ok. Il blu. Oh, bello sto celeste. Mettiamo questo, un puntino, poi mettiamo il giallo, chiaro. E proprio quando tutti i colori si stanno mescolando, noi andiamo così a mescolarli. Eeeh, belli. Mi è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta proprio assai. Però devo dire, è venuta molto meglio della luna, quel bianco è orribile, veramente nei colori. Guardate che brutto effetto lattiginoso che mi ha dato. Vediamo di sistemare la cosa qui il più possibile. Eh, vabbè, mo' sembra un po' più una luna... No, non sembra più una luna. Perché... Scusa, ma tu cos'hai sul bordo che fa vedere la luna? Niente, c'hai altro giallo. Ah, vabbè, c'hai quel poco di arancione, ma bovero. Lo faccio... Oh, ma io sono sto scendendo a stella! È una stella cadenza. Lo so che l'avete pensato tutti, dai. Dai, Nero, dammi le pennellate che non ho. E quando è sotto la lampada, niente, preparo i colori. Allora, metto più azzurro, perché questo azzurro mi sta piacendo tanto, mi ha dato tante soddisfazioni. Quindi, bravo, complimenti, sei assunto. E per quanto riguarda le pennellate giallino, chiaro, bianche, eccetera, utilizzeremo questo pigmento con interferenze oro. Così, mandiamo a quel paese quel bianco inutile. Eh, sei scaricato il cellulare! Ma perché io tengo sempre scarico mentre devo fare i video? Non male, non male. Sto sudando, ho fatto una luna e una stella, sto già sudando. Che mamma facca? Ah, sì, stu... E io direi che proprio con questo possiamo andare a dare la base... Perfetto, ho sbagliato tutto, perché di questo colore doveva venire questo punto qua. Un po' apposta, non c'era niente. Raga, con questo colore è venuto troppo bello. Devo solo capire cosa va esattamente fatto di questo colore, perché non mi trovo. Guardate che bello! Ah, ok, ok. Qui dentro ci mettiamo un po' di celeste. Mettiamo un po'... Madonna... Ma dai! Chaclou! Ok, quindi procedo così, mettendo questa base di giallino e celeste. E poi vi mostro i risultati. Sì, penso che farò così. Dunque, non so se lo sapete. Cioè, vi dirò una cosa che probabilmente non sapete di me. È che io sono scema. No? Perché io mi stavo scervellando questi pigmentini quando mi ero completamente dimenticata di avere questo pacco pieno, pieno di pigmenti in polvere di tutti i colori che ci servono. Ok, devo ricordarmi più spesso che casa mia è un negozio di belle arti. Ho poi preso anche alcuni glitterini per fare degli esperimentini e vediamo come vengo nini. Tra l'altro, sì, tutto molto bello, ma sto vedendo che non c'è il celeste in quel dipinto. A Bonia... Allora, come vedete, come c'è stato l'altra volta, a questo stadio qua fa schifo. Fa veramente schifo. Cioè, vi fa dire ma che sto facendo? Ma soprattutto perché lo sto facendo? Poi, invece, l'altra volta andando avanti, è venuto fuori qualcosa di carino, no? Cioè, siete d'accordo che è venuto fuori qualcosa di carino? E quindi, niente, quindi anche stavolta continueremo. Mi sa che questo è un po' leggermente più complicato da rendere carino rispetto all'altro, però noi continueremo. Questo è Tsunami di Resina Ubi. Resina su Resina, opera di Lupo Antonietta. Se ti rincontrasti adesso, saresti cambiata. Come vedere nuvole nell'anno testellata. E ti ha sentito piangere, tu così bella e fragile. Ok, tesori, a questo punto direi di aggiungere qualche effetto speciale e vedere se la cosa rende. E dove la mettiamo? Cioè, dove la vuoi mettere? Mettiamola qua, dove sta il villaggio. No, no, dove stanno le finestre? Non so se riuscite a vedere lo sbelluccio io. Poi, allora, cosa importantissima, volevo fare lo strato di flakes e poi andare a decorarci. Vabbè, poi vi spiego meglio visivamente perché a parole non vi faccio capire niente. Dovremmo ottenere una specie di effetto madre perla. Sempre queste, queste sì, le metto qui nel villaggio. Però figliola, per accendere le finestre il giallo ce lo devi mettere. Cioè, è inutile che pensi di non dover mettere il giallo. In tutto ciò io non sto mettendo a fuoco niente. Mi dispiace, ho passato i flakes qui e penso metterò qualche flakes anche nelle stelline. Vedete, stavo cercando il pigmento per il cipresso, ho trovato il colore pino. Mi sa che possiamo usarlo, no? Cioè, è bellissimo. Allora, al momento sembra ancora una schifezza. Chissà se per la fine del video sembrava qualcosa di decente. Adesso vado a mettere il colore del cipresso, che lo so nell'originale è nero, ma vabbè, poi dopo andiamo a mettere le ombre sul tutto. E questo però mi piace tantissimo, guardate quanto è bello. Perché se deve essere trash, deve essere tutto trash, no? Infatti non c'è, non c'è un colore non perlato. È bellissima questa cosa, mi piace assai. Ah, e tesori, in super anteprima, solo perché sto guardando questo video, vi dico che è in arrivo una nuova tavolozza artistica. Ebbene, sì, di un altro artista. No, no, no! Non devi andare sulle stelle. Non sei un giallo, ok? La prossima volta nasci giallo e vai sulla stella. Dicevo, ci sarà una nuova tavolozza di un artista molto, 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 molto amata. Ah, e vabbè, e mo, se avete capito, avete capito. Allora, con questo colore vado anche a definire un poco questa roba qui, cercando di far finta di fare delle case. Ma, i tetti di queste case, che coloro sono? Ok, ah, che c'è il suo bianco? Stiamo apposta. La parte qui è abbastanza complicata, quindi mi sfogo ancora un poco col cipresso, mettendo del nero. Dentro, ecco qua. Eh, guardate che belle. Sfumature, belle, mi piacciono, si sfumature semplici a me, belle. Guarda qua, troppo belle, ci siamo, due. Bye, bye. Ragazzi, lo so, fa schifo, sto vivendo nella speranza che riesca a sistemarlo. Tratto di glitter blu con iridescenza gialla, perché più pacchiano è, meglio, eh? Tanto ormai, abbiamo fatto trend, facciamo trend uno. Trend uno c'è sempre nei miei video. Quando no ci bis, basta, basta. Allora, vediamo dove... Io ormai non sto seguendo più il quadro, cioè, secondo me non sembrava nemmeno più la notte stellata di Van Gogh. Sei sicura? Proprio sicura di volerne mettere qua. Vabbè, ormai li hai messi, quindi, che ti devo dire? Cioè, li metti? Non mi stai a sentire? Ma voi ve lo chiedete mai con chi parlo io? O no? Cioè, come si chiama l'altra me? Non lo so, può essere bello e non può essere bello. Grazie, benvenuta nel mondo. Devo dire, in realtà mi piace, perché dà un'idea di esplosione. Quindi sì, mi piace, mi piace, mi piace. Che cosa sto inquadrando in tutto ciò? Va bene, tesori, allora, sto mettendo lo strato di effetti speciali, praticamente. Poi arriverà la fase definitiva, cioè proprio quella di definizione. Quindi dove vado a mettere le ombre e dove si capirà se è un fallimento totale oppure no. Ok, tesori, ho finito. Adesso ve lo faccio vedere. In realtà non l'ho visto nemmeno io perché mi è uscito dalla lampada. Eppure tutto suoso. Siete pronti a vedere il capolavoro di lupo? Antoinette? Voilà! Voilà! Resina, ho visto resina e non si è capito cosa ha fatto. È bellissimo. No, non è vero, non è bellissimo. Veramente non ho capito cosa ho fatto. Allora, in determinati punti non mi dispiace. Vedete, ho aggiunto anche poi tutte le ombre, ho aggiunto un po' di tridimensionalità. Diciamo che la base è stata sbagliata. Poi, quando ho capito più o meno come fare, cosa fare, siamo andati un po' a migliorare. Per esempio, vedete questo punto qui, ho aggiunto questo nero che poi non è stato più aggiunto. Insomma, cose così. Però il villaggio mi piace molto, come è venuto. Provo ad abbassare l'uminosità della lampada perché è tutta resina, quindi riflette un po' troppo. Ah, no, niente. No. Non lo so. Allora, a parte che la luna chiatta, bellissima, perché ormai c'è reflex sotto, quindi anche questo. Magari la prossima volta, semmai ci sarà un po' più ragionato, eh? Grazie. Vabbè, tesori, questo è il risultato che ho ottenuto. Come vedete, poi, man mano che andate avanti con gli strati, potete dare questi effetti rilievo. Qui, per esempio, mettendoci più resina, più strati, il cipresso sarebbe proprio uscito fuori dal dipinto. Però, visto che non reputo sia venuto benissimo, non volevo sprecare altra resina. Allora, ma lo sapete che stavo mandando la foto a Gea Creations e non sembra male? Forse non vi ho fatto vedere da vicino. Non lo so, da vicino ha anche un suo perché, pure questi brillantini che sparaflesciano. Ha un suo perché da vicino, sì. Prendiamolo più qua, eh? Così, incontro luce. È anche figo. Che ne dite? Fatemi sapere tutto, appunto, qui sotto nei commenti. Grazie mille per sopportarmi sempre. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video che sarà giovedì e quindi sarà uno scleriamo. Ciao!